Già 5.000 gli azionisti di Veneto Banca che hanno confermato la loro presenza all'Assemblea di sabato a Venegazzù, cifra destinata a crescere, considerata la voce insistente di queste ore, di chi dice che i dipendenti delle filiali sarebbero stati invitati a presenziare dietro compenso di 300 euro a testa. Nel frattempo, dall'affronte del no, con quasi 700 risparmiatori riunitisi ieri sera a Spresiano, cresce la rabbia, ma non la rassegnazione. Oggi, depositato in procura lo stesso esposto denuncia presentato ieri sera alla Banca d'Italia. La Banca sta contattando i soci per farsi lasciare deleghe in bianco, per poter partecipare e votare e far passare il sì. Ci auguriamo in un bel sequestro di tutte le schede per constatare la coerenza della scrittura compilata della delega con la firma del delegante, perché questo potrebbe smascherare e modificare tutti i piani della Banca. E mentre in Assemblea a Spresiano si rincorrono le proposte per restituire un fondo a tutela di chi ha perso tutto, c'è chi, rappresentando ben 300 imprenditori del quartiere del Piave, chiede la testa dei responsabili. Devono pagare col carcere e quindi restituire i soldi e pagare col carcere assolutamente non è possibile diversamente. Prima intanto dare i soldi a tutti gli azionisti. Restituire i soldi agli azionisti risanando la banca, vendendo le partecipate in deficit e cambiando da qui a un anno gli attuali amministratori. La proposta del comitato a no alla spa presentata dal legale di Valdobbiadene, Andrea Arman, con il parroco anti-usura che torna a lanciare l'anatema contro chi specola sui risparmiatori. E quindi le banche sono il diavolo. Diaballo in greco vuol dire tutto ciò che ti allontana dalla giustizia. E pentastellati in regione che lanciano un appello. Oggi sono qua a chiedere di mandare le vostre segnalazioni su Veneto Banca, su Banca Popolare di Vicenza e su tutte le situazioni tragiche che si sono venute a creare con le banche venete. Scrivete a segnalazioni.banca.gmail.com Grazie. Grazie. Grazie.